Camion, auto, scooter, piazza Portello e Porto Agnissanti a Padova, nonostante siano pedonari, sono soccate quotidianamente dai mezzi. Lo hanno denunciato i nostri microfoni residenti del Portello che hanno costituito un comitato. Ci hanno mostrato video e foto che documentano il passaggio dei veicoli che sono sfrecciati anche sotto i nostri occhi. Il comando di polizia locale ha fatto sapere che la situazione del Portello è nota e che a breve è previsto un sopralluogo dei vigili per definire la tipologia dei dissuasori da posizionare per impedire il transito dei veicoli. Si sta studiando infatti una tipologia di ostacolo diversa dai cosiddetti panettoni di cemento che impedirebbero il passaggio solo di auto e camion ma non dei motorini. Da Palazzo Moroni ci confermano anche che per giovedì è prevista una riunione tra i residenti del comitato Portello, il sindaco e gli assessori. La mancata presenza dei dissuasori nell'area pedonale, secondo il Comune, è dovuta alla precedente amministrazione di Massimo Bitonci quando il progetto di pedonalizzazione di Piazza Portello era stato congelato in attesa di probabili modifiche per ampliare l'area di passaggio del traffico. Il comandante dei vigili, Lorenzo Fontolana, assicura che non verrà presa sotto gamba la richiesta dei residenti di controlli per sanzionare i furbetti. Inoltre potrebbe essere riposizionata la vecchia catenella elettrica, eliminata in passato dopo essere stata presa di mira più volte dai vandali. La catena potrebbe essere riposizionata alla fine di Via Venezia poco prima di Porta Portello e azionata dai residenti attraverso i telecomandi di cui sono già dotati.